Stanno succedendo cose molto strane in questo bordo, rapiscono bambini, hanno rapito anche il mio fratello Lawrence. La contesta artemisa e la sua auta non impiede, rapiscono i bambini e poi ci ricattano. Trattano tutti i lottatori e andate a combattere contro di loro. La contesta artemisa e la sua auta non impiede, rapiscono i bambini e poi ci ricattano. Grazie a tutti.